Non lo so, sto ora accendendo il telefono, ma dove stanno? Non lo fanno a salire? No, sto scendendo e vado a vedere, è perché dice di tutto a pubblico, non lo so. Se vuoi ti dà una mano, dà, dà, dà. Dà una mano, eh? Ok. Grazie. No, io ho detto che con il signore si è andato da qui, ma non mi stanno andando da qui. Sì, ma questa cosa è da 40 minuti fa che si stanno mettendo in giù. No, no, e vabbè, tanto penso che stanno arrivando, perché io guarda sto facendo le riprese, così faccio una macchina, ma non è così, ma che vergogna, c'è, perché la persona anziana che non può camminare, ma non lo so, ma non lo so, di gestire le emergenze, ma che simbolo è questo, ma certo, ma noi ho mai visto, perché metterla visto l'anziana che non c'è la faccina a fare, ma non lo so, di passeggino. Ma guarda, le persone che devono salire per qua sopra così, un po' finché soggiorno, ma se c'è la persona anziana, non può fare pensare, ma è una pezzogna, è una pezzogna proprio all'italiano. Assurdo. Danilo. C'era uno signore, non c'è, 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 guarda col pomeriggio, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è non il Dziękuję, c'era uno signore, non c'è, non c'è, ma come stanno facendo. Cioè, è a pierdo, perché io mi sono scaricato il cellulare. Ah no, no, lo sta facendo, perché ci sono alcuni che hanno continuato fino a là sotto su binario, ostia, perché sicuramente non dovranno fermarsi a casa al Bernocchi. Ho capito, fai vedere da strada. Eh, infatti, ma hanno continuato i subbinari. Tiè, guarda la quanta gente. No, ma ci sono stati momenti di panto. Cioè? Eh, cioè, la gente scappava. Ma scappava? No, sembrava che stavano lì. Beh, stavano amorendo, perché a un certo punto ho visto tutto illuminato. Si capiva che era proprio l'elettricità che era sul palo. A un certo punto è mezza caduta nel treno la luce e da fuori si vedeva tutti i lampi. Ma si vedeva che era lampi non fulmini, ma proprio di elettricità, risposto. Cioè, io voglio capire le signore, le signore. Cioè, chissà dove è tua mamma. Ah, ok, vabbè. E poi hanno detto che due ragazze stavano sentendo male, delle ragazze. No, cioè, due sì, però il problema è che poi mi stavano acchiappando la luce. Perché? Perché una sera aveva detto, vabbè, ma non è che poi si è stata la fila. Una si sente male, due si sente male, ok. Ma non perché vengono. Una mi si è rivolta e gli fa, no, ma proprio perché Dio, così. C'era mezzo rinciaggio qui un po'. Eh, mi sa che era... Ma io... Ma io... Un po' poi se ci sono le vecchiette, non lo so, devo aiutare. E ancora arriva gente, ce ne sarà male.